Benvenuti nella Galassia Rattix. Oggi vi presento la Dacia Duster Prestige, un veicolo che incarna la perfetta fusione tra funzionalità e stile, ideale per chi cerca un'auto versatile e robusta. La Dacia Duster che vi presento oggi, è stata immatricolata a settembre 2021, e si distingue per il suo colore Highland Grey, che le conferisce un aspetto elegante e contemporaneo. Con soli 43.116 km certificati, questo SUV è pronto a portarvi ovunque desideriate, dalla città alla campagna, senza compromessi. È alimentata da un motore diesel da 115 CV, garantendo prestazioni solide e affidabili. Il cambio manuale a 6 marce assicura un controllo totale del veicolo. Dacia Duster è un'opzione eccellente per chi cerca un SUV che offra affidabilità, efficienza e stile. Visitate il sito rattix.com per scoprire perché questo SUV potrebbe essere la scelta perfetta per le vostre esigenze.